e si trova qui, un po' di Ormila, qui si muove, guarda che roba, c'è la fa, guarda, c'è la fa, ma che pula mia, vabbè, whatever, dell'aeroporto di Malpensa, una regione, l'hotel, si, ma ti deve spostare, però, registro qui, e mo, mi tocca rifar tutto, no, 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 it is not like I don't, I don't, now I won't be sure, but I, 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 AH, AAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Thormila è vero bambuno. Dovrei guardare lì Sì, buona Buona Buono che buona Però È buona È buona Giriamo il microfono Sa ungerlo Dai ciccio Com'è il volume? È un po' meglio Prova, prova, prova 2, 3, prova, prova Prova, prova Prova, prova, prova Ok, così è il gain massimo Così, ma cosa hai usato? Quindi dicevi il pantenne di shampoo Ma non hai fatto solo shampoo, no? Ah, infatti anche la crema Mi mette assoluto le campane, però Mi metto un po' più comodo do you remember how it is called in spanish there is like no no le campane no le campane I just got the strap she's a 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